mamma mia che regina sì ok certo ha incontrato la terz'ultima in classifica e quindi chiaramente gioco forza ha dimostrato tutta la sua potenza a livello fisico a livello tecnico devastando l'avversario che soltanto per i miracoli del portiere Savelloni non è finita con un punteggio veramente tennistico è finita soltanto con un 4-1 e mi sono piaciuti molto Garufo nella partita di questa sera un motorino estancabile Rolando d'altra parte Bianchi io ogni volta vi devo dire insieme questi qua perché insomma chi è tifoso di vecchia data della regina ricorderà Rolando Bianchi Bellomo che ha fatto comunque una signora partita a livello di fantasia, di tecnica la tecnica non gli è mai stata messa in discussione tra l'altro ha il pregio di sbloccare la partita sul calcio di punizione e poi c'è il solito Corazza 13 gol c'è che stiamo a parlare un bomber veramente c'è gente che secondo me è già pronta Rolando, Bianchi, Bellomo, Corazza tutta gente prontissima per il salto di qualità 13 gol per lui oggi ha segnato di destro su un assist di Reginaldo Reginaldo che era tra l'altro chiamato a sostituire il tank e ha fatto una signora partita anche a livello di assist e che altro e poi nel finale vabbè nel finale ci sono stati i gol di Rivas e Sunas proprio negli ultimi minuti di recupero mi sembra al 92 e al 94 ma è una regina veramente di categoria superiore sta a 7 punti di vantaggio andiamo a leggere un attimo la classifica 7 punti di vantaggio sulla seconda che se non sbaglio è la Ternana esattamente quindi regina 40 Ternana 43 che domani dovrebbe diciamo io spero di no ovviamente perché simpatizzo anche per l'Avellino ma domani ci dovrebbe essere Avellino Ternana o Ternana Avellino fatemi un attimo controllare Avellino Ternana 27 11 Avellino Ternana diciamo che in questo momento non è che sia proprio uno scoglio insormontabile l'Avellino però la speranza c'è e per cui così nello stesso momento in cui magari con l'Avellino ottengo un punteggio positivo do anche modo alla regina di mantenere invariati i sette punti e per cui siamo tutti felici e contenti ragazzi vi auguro una buona serata amici della regina continuate così un saluto una buona notte e sempre caccio paccio